Allora Marco Grumetti, in sintesi dopo questo incontro odierno possiamo dire che effettivamente la tecnologia è diventato lo strumento con cui gli agenti immobiliari possono incidere sulla qualità del proprio lavoro e sulla propria redditività? Allora la tecnologia sarà la base del nostro futuro, oramai fa parte della nostra vita quotidiana e imprescindibile da tutte le nostre attività, compreso la nostra professione. Non sarà solo la tecnologia, sarà la tecnologia e anche la nostra professionalità. La professionalità entrerà sempre più a far parte della nostra professione e quindi dovrà essere coltivata ed aumentata sempre di più, anche attraverso i corsi che la nostra associazione gratuitamente fornirà giorno per giorno ai nostri associati. Senta lei è dentro questo mondo da tanti anni, quanto può incidere dal suo punto di vista una politica ballerina su quelle che sono le esigenze di chi lavora in un segmento che peraltro diventa poi il termometro della crescita economica del Paese? Allora l'incertezza non dà mai sicurezze, la casa è il primo investimento immobiliare economico che una persona fa. Impegnarsi per tanti anni con una politica ballerina diventa difficile, quindi rimanda al momento decisionale e purtroppo questo crea stasi del mercato. La stasi del mercato è la cosa che gli agenti immobiliari più temono in assoluto.